Lei ci ha parlato delle relazioni parentali, ci ha parlato di relazioni a monte e a valle. Credo che la relazione parentale sia davvero vitale per noi perché sennò non saremmo neanche presenti e credo che venga immediatamente dopo, se non addirittura sullo stesso piano rispetto alla relazione che abbiamo con noi stessi. In che cosa il suo approccio è rivoluzionario rispetto alla relazione parentale? Dunque bisogna prima di tutto capire meglio che nei confronti dei nostri genitori spesso siamo in un conflitto intrapersonale. Da un lato li amiamo come bambini o come ex bambini, oggi adulti, li amiamo ma certe volte avremmo voglia di strangolarli, di cacciarli via, di andarcene via da loro, lontani. La relazione con i genitori ci mette di fronte a questa dualità che sono i conflitti fra i sentimenti mamma ti voglio bene e la relazione ti voglio bene ma non sono sempre soddisfatto della relazione che tu mi proponi. Ho 30 anni, ho l'impressione che continui a considerarmi come un bambino, che mi dà i consigli su come mi pettino, come mi vesto il colore del frigo, come tiro sui bambini. Insomma in questo conflitto fra sentimento e relazione. Questo conflitto è nel cuore stesso delle relazioni parentali. Dunque qui bisognerà fare quello che io chiamo un repulisti delle tubazioni relazionali nei confronti di mamma e di papà. Queste tubazioni che vanno ripulite presuppongono che ci si arrischi ad entrare in conflitto con i genitori. Un conflitto che io definisco aperto e cioè essere capaci di testimoniare. Papà, mamma ci sono delle cose tue che ho ricevuto e che sono buone per me. E le simboleggio con questa rosa. Queste cose buone che ho ricevuto da te me le tengo. Non sarei l'uomo che sono diventato se non avessi ricevuto questa cosa buona da parte tua. Ma ci sono anche delle cose, scusate se le simboleggio con una cacca, delle cose tossiche, delle cose che non sono buone per me, che ho mandato giù, ma mi sono rimaste, come dire, sullo stomaco. Ci sono cose che mi vengono da te, che sono venute da te, mamma o papà che sia, che non sono state buone per me. Dei giudizi di valore, una sberla che è partita un po' troppo in fretta, una proibizione che ho vissuto male, l'imposizione di una scelta, volevo fare musicista, mi ha imposto di fare l'architetto, ragioniere o di condurre la fattoria e così via. In tutte le relazioni familiari ci sono dei contenziosi, dei contenziosi che si traducono, tra virgolette, in messaggi tossici che abbiamo ricevuto. Li abbiamo ricevuti come tossici noi, perché la mamma e il papà, quando me li hanno mandati, pensavano che fossero buoni per me, pensavano di far bene a rimproverarmi o a proibirmi o anche di dirmi cose come hai un pessimo carattere, sei egoista, con un carattere così nessuno ti amerà. Non so se vi rendete conto che questi messaggi finiscono per proiettare, per deporre delle tossine e io sono convinto che ciascuno di noi abbia il corpo pieno di messaggi tossici ricevuti a monte durante l'infanzia, papà, la mamma, un maestro, una maestra, un professore, i vicini, i parenti prossimi. Questi messaggi tossici sono delle vere e proprie bombe a scoppio ritardato. Tra l'altro è una delle origini della malattia questo, perché tutte queste bombe a scoppio ritardato, prima o poi finiscono per implodere e finiscono per tradursi in una somatizzazione, in un malanno, che in francese si direbbe anche in una serie di termini di parole, il malanno che si esprime, un incidente cardiovascolare, un cancro. Guardatemi intorno, gli ospedali sono pieni. Quando parlo con i miei figli e dico loro che c'erano tre medicine nella mia famiglia d'origine, l'olio di fegato di merluzzo, mia mamma curava tutto con quello, le ventose, mi ricordo ancora che aveva nove ventose, che ci metteva, avevamo mal da qualche parte, lei applicava le ventose e poi un vecchio tipo di aspirina. Ecco, usava solo quello. Se oggi guardo come sono le ricette, 80 euro di pilloline, di ricette, quelle per dormire, per non dormire, per avere l'erezione, per non avere l'erezione, per dimagrire, per ingrassare. Ma in che mondo viviamo? Viviamo in una sorta di stampellamento medicamentoso che ci aliena, una serie di stampelle che ci tengono in piedi. Va bene, il corpo soffre, ma soffre perché noi non siamo buoni compagni per noi e perché abbiamo una quantità di contenziosi legati alla nostra infanzia. Bene, la rivoluzione che propongo è di imparare a restituire ai genitori, restituire simbolicamente, ecco, con due atti simbolici. Questa è la cosa buona che mi hai dato, mamma, papà, me lo tengo, spero di poterlo trasmettere ai miei figli, se accetteranno di, ovviamente, riceverlo, ai miei figli o alle persone che amo. E poi ho ricevuto una serie di cose non buone, una quantità di cose negative. Il che non vuol dire che sei una mamma cattiva, che sei stato un cattivo padre, vuol dire soltanto che per ragioni tue, a un momento dato, hai provato il bisogno di depositarmi addosso questa roba. Questa roba non è buona per me, non voglio tenermela e te la restituisco. Questa è la restituzione simbolica dei messaggi tossici. Dovremmo insegnare queste cose già all'asilo. Questo vuol dire che lei esorta le persone a fare un gesto, usando davvero degli oggetti un po' come fa lei? Che sia la cacca di plastica o un oggetto che può assomigliare a questo? E questo che lei dice? Lei dice alla gente non solo di dire a parole, tirendo quello che mi hai dato, riconoscendo ovviamente all'altro il fatto che le sue intenzioni erano buone per non ferirlo, ma davvero lei sta dicendo alla gente di restituire fisicamente attraverso un oggetto simbolico quello che hanno ricevuto di tossico e che dunque riconoscono come tossico per loro stesse. Sì, è questo che rende la cosa rivoluzionaria, perché in molte terapie tutti vi dicono che parlare col terapeuta, con lo psicanalista, vi allevia, certo vi libera, è vero anche questo. Siete un po' sollevati, ma questo mattone ce l'avete ancora sullo stomaco, sapete? Perché l'umano è un essere strano. Se uno si mangia un fungo o qualcosa di avariato, un fungo velenoso, il corpo immediatamente lo vomita. Lo facciamo col cibo e non lo facciamo con centinaia di parole, di gesti, di sguardi. Oh, smettila di parlare, dici solo delle stupidaggine, ne fai dieci cose, in una volta non ne finisci una. Sapete, se voi che mi ascoltate non ci credete, provate a mettere un registratore aperto alla dimenica mattina nella vostra famiglia e poi riascoltate alla sera quanti sono i messaggi negativi che avete depositato su persone che amate, il marito, la moglie, i figli. Quello che dicevo, lo ha detto molto bene, lei l'ha definito bene, io ho scoperto che bisogna usare un oggetto perché le parole sono necessarie e indispensabili per comunicare, cioè per mettere in comune, ma non sono sufficienti le parole per nutrire, dinamizzare, rendere viva una relazione che per noi è importante. Bisogna avere qualcosa di più delle parole per nutrire una relazione, degli oggetti simbolici. vede, quasi tutte le culture primitive, gli eschimesi, gli amerindiani, gli aborigeni australiani e così via, culture che noi chiamiamo primitive, ma io preferisco chiamarle primordiali, queste culture praticano tutte la simbologia, ma noi occidentali, i cosiddetti uomini e donne civili, pensiamo che siano delle stupidaggini, della magia, dei rituali. Abbiamo, come dire, uno sguardo di superiorità nei confronti di queste pratiche. Tuttavia, la simbolizzazione è un'arma straordinaria. Prendiamo Jung, che all'inizio è stato discepolo di Freud, poi si è separato dal maestro e ha sviluppato la sua tecnica, un grande psicanalista che ha praticato la simbolizzazione. Purtroppo, però, non ha sviluppato sufficientemente malgrado la sua intelligenza, malgrado l'aura di fama che lo circondava. Io credo che se avesse sviluppato questo strumento, avrebbe avuto un impatto maggiore di quello che posso avere io, imparare a restituire simbolicamente ciò che di non buono abbiamo ricevuto da un altro. Un esempio concreto. È stata mia madre a crescermi, mi ha molto amato, forse pochi figli sono stati amati come sono stato amato io, ma questo è in termine d'amore. Mamma, mi hai dato tanto amore, ma dal punto di vista della relazione ho ricevuto molte cose buone e anche qualcosa che buono non era. In particolare, mamma, eri una donna molto ansiosa, piena di angosce e mi hai proiettato addosso, malgrado tutte le cose buone che mi hai dato, mi hai depositato addosso un sacco di angoscia. Ora, lei sa, come me, che quando un problema non è risolto in una data generazione, si prolunga nelle generazioni seguenti. Io sono padre di cinque figli e un giorno ho scoperto che quelle angosce, quelle ansie, ero io a depositarla sui miei figli. forse è per questo che ne ho cinque, così almeno ho potuto ripartirla e come dire avere cinque figli unici. Bene, questo mi ha fatto pensare perché io amo i miei figli come mia mamma mi amava, ho dato loro molte cose buone, penso di sì, ho fatto molti errori, certamente, e ho depositato su di loro una quantità di messaggi tossici. Questo mi era insopportabile. Allora ho chiesto loro di rendermelo con due azioni simboliche. Non solo si può restituire ma si può anche riprendere. Nathalie, credo di averti ferita. Eric, un giorno ti ho scosso un po', ti ho fatto una forma di violenza, vorrei che tu me la rendessi simbolicamente questa violenza. Bene, a 39 anni Eric, attraverso un oggetto, mi ha detto papà ti rendo la violenza. Quel giorno mi hai fatto tanta paura, di così arrabbiato, quel giorno che credevo che mi avresti ammazzato. Era come se tu non mi riconoscessi più come tuo figlio. Ti ringrazio, gli ho detto, di restituirmi quella violenza perché se tu non me l'avessi restituita, anche tu avresti potuto depositarla sui tuoi figli. Capite come funziona il concatenamento delle ripetizioni familiari? Bene, quale oggetto ho scelto per restituire a mia madre questa angoscia? Vi sembrerà un po' puerile e ridicolo ma per me è stato un atto liberatorio. Ho preso una bottiglia d'acqua, ho preso una bottiglietta di inchiostro nero, ce l'ho versato dentro e così ho ottenuto un liquido nero piuttosto sgradevole e le ho detto tieni mamma credo che tu abbia depositato su di me tante angosce molto amore molto amore molte cose buone ma questa angoscia qua non va bene perché mi rendo conto che a mia volta la proietto sui miei figli dunque te la rendo bene sappia che la mia mamma è andata a scuola solo fino a 12 anni non aveva studiato psicologia ma era una donna piena di buon senso ed è stata zitta non ha detto niente tre anni dopo mi ha detto sai che quando mi hai restituito l'angoscia che ti avevo proiettato addosso mi ha fatto riflettere tanto perché se io l'avevo depositata su di te da dove mi veniva chi l'aveva proiettata su di me e mi sono ricordata che la mia nutrice perché mia mamma era una bambina abbandonata dunque era stata data a baglia la mia nutrice mi disse mia madre era una persona molto angosciata e ansiosa era una che mi proteggeva eccessivamente piangeva sempre mi angosciava non potevo fare due passi per strada senza che qualcosa dovesse capitarmi per forza e così sono andata davanti alla sua tomba la mamma di mia mamma era morta da più di vent'anni e mia mamma mi disse sono andata sulla sua tomba e le ho detto mamma ti rendo la tua angoscia vedete cosa c'è di fantastico nelle relazioni umane se sciogliete qualcosa a valle io nei confronti di me stesso nel momento presente restituire a mia madre le angosce ricevute a valle riprendere dai miei figli le violenze che ho potuto depositare su di loro ebbene c'è qualcosa che andiamo a sciogliere a monte questo è fantastico nelle relazioni umane non c'è niente di bloccato non c'è niente di cristallizzato possiamo sempre ridinamizzare una relazione renderla viva quanta gente vedo che mi dice detesto mia madre non voglio più vederlo mio padre è stato cattivo con me mi squalifica sempre poi grandi fughe a questo punto si taglia la relazione ebbene io credo che le relazioni parentali siano indistruttibili che non le possiamo rompere se cerchiamo di romperle credo che inscriviamo dentro di noi il futuro di una malattia di una somatizzazione grave dunque le relazioni parentali possono essere ridinamizzate rivificate e termino confermando tre cose i sentimenti ti voglio bene mamma e sono capace di ricevere l'amore che hai per me confermare le cose buone che abbiamo ricevuto dai genitori magari disordinatamente maldestramente ma intanto l'abbiamo ricevuto e poi restituire quello che non era buono i messaggi tossici negativi che abbiamo ricevuto da loro così io credo che si possa migliorare considerevolmente la relazione che possiamo avere con delle persone che amiamo che ci hanno costruiti che sono alla fin fine la base della nostra vita perché abbiamo passato dagli zero ai vent'anni e qualche volta anche di più nell'ambiente familiare quindi sono delle relazioni fondanti che ci hanno costruiti che ci hanno o resi più solidi o resi più vulnerabili dentro di noi bene queste relazioni vanno risanate ridinamizzate attraverso questa messa a punto di cui ho parlato dunque quello che diceva lei prima quello che mi ha colpito è che abbiamo ancora un potere di comunicazione anche quando i genitori non ci sono più e quando non c'è più niente non sappiamo dove sono non c'è una tomba possiamo ancora trovare un modo per rendere loro in questo modo non violento d'altronde quello che abbiamo ricevuto come messaggio negativo perché noto che spesso rendiamo la negatività ai nostri genitori la negatività che ci hanno affibbiato con dei comportamenti che a loro volta sono aggressivi sì reazionali sì reazionali dunque invece è noto che qui abbiamo un comportamento calmo tranquillo e questo comportamento può essere tale anche quando il papà la mamma o i nonni se ne sono andati bene lei ha messo il dito sulla simbologia quando una situazione sul piano della realtà è bloccata possiamo sempre superarla con una simbolizzazione se i miei genitori sono morti e non ho come dire fatto i conti con loro ancora dei contenziosi una ruminazione qualcosa di reazionale dentro di me posso restituire questi messaggi negativi ricevuti da loro deponendo un pacchettino sulla tomba non c'è la tomba sono all'estero bene creo una tomba simbolica pianto un albero metto tre pietre interro un oggetto che apparteneva a loro una loro foto insomma qualcosa che simboleggia che in quel posto posso collegarmi cioè entrare in relazione con loro sono scomparsi dalla mia realtà ma sono ancora presenti nel mio immaginario ho dei conti in sospeso oppure per esempio non è che solo con i sentimenti negativi abbiamo dei conti in sospeso perché molti di noi scoprono di non aver osato dire al padre ti volevo bene ti voglio bene per esempio avevo un padre alcolizzato vedevo solo il suo alcolismo ecco l'alcolismo di papà papà era dietro non riuscivo a dirgli che gli volevo bene dicevo ti detesto papà ma non era papà che detestavo era il suo alcolismo quindi non bisogna già confondere il papà con il suo alcolismo e certe volte dopo che è morto che accettiamo di riconoscere ecco papà tutto l'amore che avevo per te che non sono mai riuscito ad esprimerti oggi te lo dico non solo te lo do e a quel punto uno fa un disegno una scultura con la plastilina sapete nel campo della simbolizzazione abbiamo una creatività straordinaria ecco papà tutto l'amore che avevo per te ma che il tuo alcolismo faceva un po' come da ostacolo per cui non riuscivo a darti questo amore questo è molto importante per rappacificare quelli di noi che vivono con un amore non usato un amore torturato dentro di noi un amore schiacciato soffocato e si muore di questo alla gente viene l'asma sapete questa è l'origine di molte forme di asma amore non usato amore torturato pensavamo di detestare papà e mamma in realtà non detestavamo loro ma il loro comportamento la loro condotta la violenza di papà sulla mamma l'incomprensione di mamma con papà non bisogna confondere ne parlerò poi ancora la persona e il comportamento e questo approccio simbolico di risanamento della relazione che sia dal punto di vista dei messaggi tossici che sia dal punto di vista di riconoscere i nostri sentimenti reali quante volte ho sentito la gente dirmi detesto mio padre e io sentivo invece che quando dicevano detesto mio padre era come se torcessero il collo a tutto l'amore che avevano per il papà no papà non ti detesto detesto il tuo alcolismo detesto la tua violenza detesto il tuo silenzio detesto il fatto che hai dedicato al lavoro l'85% della tua vita e a me mio fratello e mia mamma ci rimaneva una briciola della tua vita questo ho detestato ma avevo tanto amore per te non ho potuto mai dirtelo bene su una tomba vera e propria o su una tomba fittizia ricreata possiamo riequilibrare riconciliarsi non con papà e mamma ma più che altro con noi stessi smetto di maltrattare i miei sentimenti reali riconosco che ci sono possono prendere dentro di me tutto il posto che vogliono prendere forse morirò in pace proprio perché avrò riconosciuto i miei veri sentimenti che vogliono Grazie a tutti